Vuela, buondi, allora questo non è un video di mercato perché ve l'ho detto tanto nel fine settimana in genere il mercato dorme, salvo ufficialità, arrivi e altre cose in genere non c'è mai una mazza, ecco il fine settimana cheat, verrò ripreso mille volte però in genere è così mercato da lunedì al venerdì, poi sabato e domenica chiudono battenti, se ne vanno tutti al mare, i procuratori, in piscina col telefono cercano di chiudere determinate cose e poi se ne riparla lunedì è sempre così un classico, poi certe ufficialità possono arrivare anche durante il fine settimana a borse chiuse con questi discorsi qua, però insomma sono l'eccezione alla regola in questo video voglio parlare di Mbappé di Mbappé, della vicenda Mbappé, voglio dirvi la mia opinione, voglio dirvi che cosa ne penso e poi voglio che mi diciate la vostra, questa sarebbe veramente una bella discussione col buon Giovanni Ramanini che secondo me su questa tematica sarà illuminante illuminante perché ne sa pacchi molto più di me io mi soffermo un po' alla coerenza comunicativa di determinate cose e poi alla coerenza nei fatti, se c'è veramente o se c'è incoerenza tra quel che si dice e quel che si fa ora, prima di iniziare questo video vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mi raccomando ragazzi iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi che sta stagione ne vedremo delle belle, sarà un mercato infiammato ci saranno delle trasferte poi da pianificare, fare, sono pronto e carico a mille abbiamo già fatto il server discord bene per bene, cambierò le grafiche a breve del canale, copertine e tante altre cosettine quindi insomma un canale che non sta lì statico ma tende sempre a cambiare in base ai tempi ora torniamo a noi, parliamo di Mbappé, allora cosa è successo brevemente Mbappé, parametro zero, contratto in scadenza, parla con Real, stringe quasi la mano a Florentino Perez e alla dirigenza madrilena, bene, a me le cifre che mi avete proposto vanno molto molto bene il ragazzo però non firma alcun contratto, temporeggia, temporeggia, temporeggia le cifre erano buone, 120 milioni alla firma e 50 milioni di euro all'anno lordi cioè circa 26-27 milioni netti a stagione era questa l'offerta del Real Madrid arriva Lemiro del Cattari e dice alza l'offerta lo teniamo noi qua, gli diamo 50 milioni netti a stagione 130 alla firma e non se ne parla più e così è successo lui, Mbappé, ha firmato fino al 2025 si gestirà i diritti d'immagine in automatico quindi il club non potrà sfruttare l'immagine di Mbappé per le questioni di marketing e altre cose dovrà sempre pagarlo e altre mille situazioni quindi il fatto sta che Mbappé guadagna una fraccata di soldi e finisce qua però voi mi direte e beh colpo si fa schifo tutto sto denaro no no no, attenzione a me non fa schifo tutto sto denaro io anzi vi dico in qualità anzi mettendomi nei panni di Alcalaifi per perdere un asset simile io faccio il possibile per tenerlo Mbappé è un giocatore fenomenale faccio il possibile per tenerlo quel che è nelle mie possibilità se io ho la possibilità di cacciare i soldi così li caccio e li ottengo il problema dove sta? è che Alcalaifi ricopre un ruolo in sede istituzionale UEFA non UEFA è nell'ECA in realtà che però collabora se non mi mie co-eco con l'UEFA dove hanno sbandierato col nuovo fair play finanziario che non si chiama neanche più così non mi ricordo neanche come cacchio si chiama perché c'è la sostenibilità di mezzo come parola chiave del termine sostenibilità economica era questa la parola chiave non la competitività tant'è vero che ci siamo arrabbiati noi tutti ah questi qua della competitività non gliene ha fatto una mazza gliene frega solamente della sostenibilità economica ecco ditemi dov'è la sostenibilità economica di tale operazione per il PSG che fattura circa mezzo miliardo l'anno e hanno speso 120 milioni solo per lui alla firma bonus poi subito dopo ingaggio da 100 milioni l'ora di circa capite bene che c'è qualcosa che non quadra perché poi non è che gli altri ingaggi del PSG sono da 2 milioni 1 milione mezzo milione 200 mila euro no no sono tutti molto elevati messi quanto prende Neymar quanto prende ora Di Maria va via però Verratti prende una miseria e Donnarumma c'è facendo la somma questi qua praticamente ragazzi stanno spendendo 15 e fatturano 10 cioè questa è la proporzione però con il nuovo frepli finanziario non si chiama così comunque con le nuove regole economiche dell'UEFA praticamente che cosa succede? che loro dovrebbero rientrare nel 90% dei custi ovvero io fatturo 100 posso spendere massimo 90 per gli ingaggi eccetera 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 ma non rientreranno mai la manfrina che possono fare è far rientrare dei soldi tramite sponsor di Stato perché di questo si tratta sponsor che sono società partecipate dallo Stato Catariota la proprietà è dell'Emiro l'Emiro gestisce anche quelle società pompano denaro sotto forma di sponsorizzazioni e finisce là cioè è questo quello che accade ma allora non facciamoci prendere per il culo ragazzi da voi anche contro Superdega o meno ma quando sentite anche la IFI che parla di sostenibilità economica dovete prendere e lanciargli uno sputtacchio alla tv cioè questo è quello che deve succedere automaticamente per cui la coerenza non c'è tra quel che dice anche la IFI sulla sostenibilità economica e quel che fa non c'è voglio vedere Ceferin come parlerà e come ragionerà di questa vicenda sono molto curioso del susseguirsi perché poi dopo il rinnovo si è scatenato il caos più totale in Liga Spagnola Tebas da sempre contro la Superlega perché ne faceva una questione anche lui di principio e di denaro fa l'offeso scrive un comunicato dove dice praticamente che anche la IFI è una persona pericolosa che potrebbe mettere a repentaglio la sostenibilità economica di tutta l'Europa poi si chiede come fa un club come il PSG che fattura mezzo miliardo di euro con dei debiti dall'anno scorso di 220 milioni e dei debiti passati che arrivano e ammontano fino a 770 milioni a fare un'operazione di questa portata punto questa è una delle cose che chiede ora c'è da dire una cosa il Real non è immune da critiche perché in passato ne ha combinate di ogni dal punto di vista finanziario sono stati anche condannati dalla giustizia europea per degli aiuti di Stato hanno sistemato i conti con le nuove regole interne legate ai bilanci quindi magari visto e considerato che il Real fatturava un miliardo di euro quelle cifre di cui abbiamo parlato prima rientravano abbastanza in quella che è la spesa del Real però trovo quel comunicato ridicolo fatto e scritto da un'altra persona ridicola che ha fatto della sostenibilità anche quella un mantra che ha appoggiato le parole di quest'uomo che invece ha rinnovato Mbappé ovvero anche la IFI anche la IFI Ceferin hanno ragione Real PSG Real Barcellona Juve pensano solamente al denaro è stato gliel'hanno ficcata in culo ragazzi perché gli hanno tolto un potenziale uomo immagine che avrebbe attratto capitali importanza alla Liga e capite bene che quando gli hanno tolto il giocattolino che sembrava quasi arrivare l'hai schizzato perché sa che perderà audience e attenzione mondiale nel non portare Kylian Mbappé in Spagna e quindi capite bene che ognuno guarda a casa sua ragazzi non c'è voglia di guardare il bene comune sono gli stessi club che iniziano a guardare l'ecosistema e capiscono che c'è del marcio ogni tanto che ci sono delle cose da sistemare ma i politici fanno sempre gli stessi interessi programmatici i politici del calcio i burocrati del calcio i vari Ceferin i vari te bass eccetera quelli non guardano al bene comune non guardano al bene del gioco fanno i loro sporchi interessi in tutti i ragionamenti i club ovviamente fanno il loro interesse però la competitività a livello europeo deve essere un interesse comune condiviso che poi bisogna essere bisogna ficcarci dentro dei parametri di meritocrazia quello è fuori dubbio e l'insurrezione anti superlega su quel punto programmatico è condivisa anche da chi diceva l'idea della superlega mi piace ma c'è questa cosa che va aggiustata un sistema di promozioni e retrocessioni può fare veramente una nuova piramide del calcio europeo con una serie A con una serie B con una serie C e si va promozioni retrocessioni eccetera i campionati danno il ticket magari per entrare o un ranking europeo sistema meritocratico migliore che venga deciso e poi l'importante è che sia chiaro un regolamento chiaro non come la nuova Champions League che deve uscire fatto sta che trovo inopportuno il comunicato di Tebas e trovo incoerente la condotta di Alkelaifi nonché nociva lancia un messaggio secondo me brutto per il calcio che verrà perché dicono noi facciamo le regole all'UEFA ma possiamo fare il cazzo che ci pare questa la sintesi e quindi vi dico se non si mettono delle regole serie succedono queste cose qua e la colpa non è di Alkelaifi non è neanche di Florentino Perez né di Tebas la colpa è dell'UEFA perché con dei paletti seri con delle regole serie non si sfugge con delle regole chiare non si sfugge con un sistema fumoso di regolette per limitare e per fare eccetera c'è qualcuno più furbo di te che ha la moneta e che te la mette nel sedere e che ti fa passare questi soldi qua creandoti una bolla enorme sul costo anche dei giocatori eccetera che può portare solamente tante squadre a cercare di essere competitive portare a dare un rischio quasi di default perché la competitività è il sale di tutto però poi a livello economico bisogna mettere dei paletti perché se c'è quello che è la capacità di spesa di miliardi e miliardi di euro gli altri per stare al passo cercano di spendere magari fanno il passo più lungo della gamba quando cadono si sente perché magari non hanno le adeguate coperture ragazzi io non parlo della Juve non pensate che io la Juve ha spalle abbastanza coperte può fare ricapitalizzazioni il Napoli ricapitalizzazioni non le può fare parlo quasi più interesse delle squadre piccole che non le squadre grandi per cui la competitività deve essere un valore che insomma scalda il cuore di tutti i tifosi dai più piccoli dalle squadre più piccole alle squadre più grandi quindi non è una questione di super lega no super lega sì vi sto dicendo chi ha sbandierato un programma legato alla sostenibilità ha fatto il contrario questo è il punto Tebas che era a favore della sostenibilità ora si incazza perché il PSG e lui si è fidato di persone che gli hanno detto una cosa ne hanno fatto un'altra e lo critico su questo non che non abbia ragione però si attacca al tram adesso Mbappé ha firmato arrivederci e grazie vedremo le reazioni perché sono sicuro che qualcosa nello scenario europeo cambierà perché l'attenzione anche all'Inghilterra è tanta e c'è la paura e c'è la paura che insomma dei club che fanno parte di Germani Italia Spagna Francia eccetera che la vera super lega sia quella là e devono trovare il modo di combatterla almeno dal punto di vista economico spettare le vostre opinioni sotto nei commenti iscrivetevi al canale comunque questo è un argomento che voglio toccare con la Rabanini io ve l'ho detta così ma magari ho detto qualche imprecisione me ne scuso però mi pare che tutto il discorso che ho fatto fili abbastanza ma voglio fare questo video con lui perché è molto molto interessante un abbraccio a voi e sempre fino alla fine forza Juve